Hotel Bravo 9 Uniforme Quebec X6 Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra QRP Sessione QRP, avanti Ti ringrazio, qui Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, ripeto, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra QRP Nome operatore Alessandro, a te il cambio Magnifico Alessandro, ti ascolto bene, dopo ti faccio anche per te una registrazione perché è sempre interessante di sapere come si esce con un QRP Z4, Victor Queen Sierra, Hotel Bravo 9 Uniforme Quebec X-Ray, prego Roger Pietro, sì, ho aperto anch'io QRP e ho visto i resoconti dei collegamenti Ne abbiamo due, abbiamo due contatti precedenti Sto utilizzando uno di quei micro apparati USDX E' grosso più o meno come un pacchetto di sigarette Poi ti mando qualche foto dell'apparato Che sto utilizzando in questo momento Il tuo rapporto 5,9 5,9 reali Wow, interessante E che potenza dà questo mini transceiver? Roger, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra Riprendendo Guarda, è venduto per 5 Watt, ma io ci credo poco Ok, riprendi pure Hotel Bravo 9 Uniforme Quebec X-Ray Ok, perfetto, sì, ma sai funziona E l'audio è veramente usabile Aspetta, io qui quello che faccio lo metto un po' più forte Faccio una normalizzazione che chiamavano questo Sarà più forte in uscita il segnale Ma così si, ah, senti l'audio Torno sull'IQ, tolgo Equalizer, i filtri e Playback Siamo due, siamo due contatti Sto utilizzando un po' di questo Il USB E' grosso più o meno come un pacchetto di sigaretto Poi ti mando qualche foto dell'apparato Sì, ok, senti la Dietro c'è la tastiera Qui, il microfono è sempre acceso Si, hai ascoltato? Roger, Roger, ti ringrazio Ti ringrazio della registrazione audio Poi io ti passo la registrazione video QSL QSL